Presidio itinerante delle Tute Bianche questo pomeriggio a Genova per protestare, dicono, contro le perquisizioni delle forze dell'ordine. In queste immagini li vedete al loro arrivo a Palazzo Ducale dopo essere partiti in una trentina dalla stazione Principe dove era confluito anche un altro filone giunto dai campi del Lagaccio verso il centro. Numerosi poliziotti a presidiare la piccola manifestazione che si è tenuta per fortuna senza sconti.